cavalchiamo il trend di tik tok attenzione questo mi sembro io vero mancini e panci insieme la coppia perfetta non esiste a fantastica e mica d'ho detto damiano non piangere povesse un attaccante che sa far bene sia nella squadra che in nazionale ecco a voi l'allenamento di ciro per riprendersi la maglia da titolare della nazionale italiana questo è geniale si posso dire che era bello se lo alternavate con delle immagini di ciro perché perché lui lo fa e come tira il maraccio nooo tu non c'è di manfa è il maraccio è come tira lui nooo ma non ho capito totalmente a caso è schifo togliete togliete che è sempre quello che sembrava nudo tra l'altro perché l'ha dovuta buttare in macca così vergognoso ferro del direttore questa cosa la leonardi perché la leonardi quando fa quei video bisogna massacrarla perché se tu le vuoi scrivere sei figa poi lei pensa di essere figa e se la tira eh in tanti sì ma Giulia eh buona eh 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 Augusto e Damiano stasera dopo la cinquantesima battuta su Immobile Giulia perché la Roma ha preso Stefano Pelatovic quindi ha preso tu padre bene mo' abbiamo pure tu madre così si ha alculato dai no 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 quando entri su Twitch ma ti scordi di levare il nickname del sito porno che stavi guardando Nick veramente Nick da altri tempi ringrazio Arrapato44 che ci soffiato Arrapato44 Augusto dopo Ocv che dico come rite l'imbecino ogni cosa contro di me rite fa 30 go a stagione vediamo attenzione cancellieri si allena per i tiri al volo alessio a luglio dopo l'arrivo di benzema moderici e bobby firminio festeggiare i doppiaggi nelle diverse lingue i doppiaggi nelle diverse lingue attenzione attenzione ennesima clip dell'asso fin da sorpresa e c'era la tua testa pensa oggi ne son culato una donna a spingare come le cosse nell'acqua quando le metti a bagno per mangiarle e cuocerle la vera ed era tu madre semplicemente asso di Roma però se c'ho ragione io fai quello che hai detto non ti ho bannato allo studio torre oh i got you i got you be free assaggio parte la decunstazione di perpino raga era tutto tranne che urina raga tu potrebbe fare stand up stava provando a definire lo squirt allora enerix due punti e virgolette sono un giocatore tecnico vediamo molto tecnico allora allora un attimo non